Questa iniziativa dell'inedito è iniziata circa cinque anni fa. Ho conosciuto una rappresentante di vini che mi ha proposto di assaggiare questo bianco autotono di Langa. Ho creduto in questo progetto di questi viticoltori che hanno voluto riscoprire questo bianco che va un po' a contrastare quelli che sono i bianchi del Roero, quindi l'arnese è la favorita. Visto che principalmente i miei clienti sono stranieri e vengono appositamente per degustare vini di Langa, che siano rossi, a questo punto anche bianchi, autoctoni. Ho creduto in questa cosa. Sono stati presentati qua tutti i componenti dell'indigenus, hanno presentato la loro nascetta e tra questi io ho scelto quelli che secondo me rappresentavano meglio la nostra zona. Col tempo abbiamo avuto dei buoni riscontri, la gente torna, tantissime persone ci chiedono di vendere nell'immediato, subito dopo il pranzo o la cena, una bottiglia per portarsi a casa questo vino di cui non avevano sentito mai parlare. Abbiamo creduto in questo progetto a tal punto che abbiamo formulato una pagina nella nostra lista dei vini dedicandole un piccolo trafiletto sia per la descrizione del vino e l'abbiamo fatto anche in inglese questo perché tanti turisti appunto sono stranieri e questa cosa ci ha dato un buonissimo risultato.